E' scritto nel registro degli indagati il maresciallo Giuseppe Verde, graduato in forza all'aliquota della compagnia di Padova e compagno di Deborah Sorgato, una delle tre persone arrestate per l'omicidio di Isabella Noventa. Formalmente l'indagine non è legata alla vicenda della segretaria di Albignasego, scomparso ormai da quasi quattro mesi, ma alla violazione del segreto d'ufficio e alla violazione di banche dati, dopo la perquisizione dell'armadietto del sotto ufficiale durante la quale erano stati sequestrati una serie di fogli che contenevano informazioni prese dalle banche dati dei carabinieri. La figura del maresciallo fino ad ora non era mai entrata direttamente nell'indagine, nemmeno quando in un armadio del suo appartamento, che si trova nello stesso condominio dove abita Deborah Sorgato e sullo stesso piano erottolo, erano stati ritrovati, per la verità proprio su sua segnalazione, due pistole e 124 mila euro in contanti. Allora il maresciallo disse di averle scoperte per caso. Ora il materiale raccolto durante l'ultima perquisizione negli armadietti del sotto ufficiale verrà analizzato per scoprire innanzitutto se ci siano attinenze con la posizione di Deborah Sorgato e comunque con il caso Noventa. La famiglia della donna, in assenza di nuovi elementi, ha intanto deciso di disporre delle proprie perizie su alcuni degli oggetti sequestrati durante l'inchiesta.